Per fare un discorso ad ampio spettro sull'importanza di essere comunque un noi, dove ognuno nel suo settore dà e porta quello che può, che sa dare e contribuendo a un progetto di legalità sia fondamentale, perché presa a compartimenti stanni abbiamo già visto che non si va da nessuna parte, quindi fondamentalmente l'importanza di questo convegno è proprio questa, mischiare i vari contributi che portano poi a un progetto di legalità. Secondo me c'è molto da lavorare sulla mentalità sicuramente degli italiani in generale, non è soltanto una questione di Roma o Ostia che è la particolarità mia, ma indubbiamente per riuscire a ribaltare determinate regole che ormai sono diventate la nostra normalità, quindi accettare un comando di un boss o pensare a chi ci può raccomandare non appena ci prescrivono una visita semplicemente. Ricoltare questo è un po' la difficoltà, perché non bastano le inchieste della magistratura per riportare la legalità, ci vuole uno sforzo culturale.